Mi sono iscritta al corso pasticceria di base della Digilio Academy dello chef Andrea Digilio e sono veramente entusiasta di questo corso. Lo chef infatti spiega in maniera molto dettagliata ed esaustiva tutte le varie preparazioni di base della pasticceria, però le spiega anche in modo semplice per chi come me non è un professionista ma una semplice appassionata di pasticceria. Inoltre lo chef risponde tempestivamente a qualsiasi domanda gli venga posta in merito a dubbi o perplessità che abbiamo nella preparazione che abbiamo appena svolto. Possiamo anche scaricare tutte le varie ricette del corso di pasticceria che abbiamo fatto e molte altre che lo chef ci regala. Ci sono moltissimi altri corsi di pasticceria ai quali sinceramente mi iscriverò perché questo corso è un corso serio e i soldi spesi sono soldi ben spesi. Un abbraccio di cuore a tutto lo staff dell'Academy Digilio.